Ciao a tutti, io sono appena tornato, c'è una giornata, è solo il calcio, proprio una giornata, non mi importa Ben ritrovati su Trattoria Sportiva Diciamo che oggi è una giornata, io ancora non ho visto il video del Voltri, quindi premetto, non è stata molto Florida dei risultati, ecco, per la trattoria Ma vabbè Cosenza, Perugia, 0 a 0 Sto registrando il video e non so che titolo mettere, probabilmente due punti persi ma Secondo me è troppo poco perché io ho visto praticamente 2-3-4 Cosenza in un'unica partita L'inizio ovviamente un Cosenza che ha atteso il Perugia stranamente come al solito Stranamente come al solito, beh, sono molto in confusione I primi 20 minuti, classico Cosenza di quest'anno, che soffre Però per fortuna, Paz, poi sostituite al 45esimo e ci grazie a due volte, la seconda anche grazie a Marson Ma diciamo che è stato più errore di Paz, ecco Quindi il primo tempo è stato ai punti, avrebbe meritato qualcosa in più in Perugia Il secondo tempo però il Cosenza probabilmente si è svegliato, si è dato una scossa Ricordiamo che Cosenza oggi aveva delle defezioni importanti, soprattutto sulla fascia come Rispoli e Martino E giocavano Venturi e Gozzi Che però quest'ultimo non ha demeritato Su Venturi c'è la spada di Damocle che nel secondo tempo su un'azione di Florenzi Che fondamentalmente è stato spento come tutta la squadra a 60 minuti Cioè si è svegliato lui, si è svegliata la squadra come sempre Ah, ha dormito Cioè, ha dormito Un pallone forte che andava soltanto spinto in rete, io non l'ho rivisto Quindi sto parlando così, non avendolo rivisto Un pallone che andava spinto dentro non si è riuscito a farlo E lì diciamo che la partita di Venturi è stata condizionata Perché poi da lì non è stato più, non ha spinto più anche forse proprio per paura ecco Di quello che era accaduto poco prima Cosenza ci riprova Con Calò che sale in cattedra Tira di punta Palo Vabbè Nel primo tempo Zilli Quei due davanti non è che mi carbano più di tanto Io continuo a dirlo Non è che proprio mi facciano impazzire insieme Cioè Zilli ne parlavamo con un tifoso Anzi con tanti tifosi che la pensano fondamentalmente così È un giocatore da ultimi venti minuti Perché al posto di mettere Budice ad esempio potevi mettere Zilli Ma Zilli era uscito quindi Per mettere Brignola anche oggi impalpabile Cioè, ho capito Enrico che tu fai così Dopo il gol dell'1-1 col Cittadella Ma oggi non è che hai inciso più di tanto L'arriva è appannatissimo Cioè E Gori ti stava regalando due cappelle E tu Una clamorosa che l'arriva è Non ha avuto il tempo Non ha avuto secondo me la lucidità Perché lui era stancho Era stremato Quindi secondo me Giovedino lo ripeterebbe in campo all'Immacolata Per il 6 amici ha fatto che è cotto Perché ha una certa età Perché Determinati ritmi non li può tenere Peccando di lucidità Un giocatore come lui della sua stazza Diciamo che Ne paghi le conseguenze Perché ne paghi le conseguenze Su un errore di Gori Un disattenzione anche Se non erro del centrale Se non erro mi sa che è proprio dell'Orco Se non erro Lui riesce a prendere questo pallone Prima dell'occasione Di Venturi E ancora prima Dell'occasione Di Calò Precedentemente elencate E tu Non sei riuscito A vincere una partita Che Considerando le occasioni nitide Ripeto Nitide Riprendendo il nastro Riavvolgendo il nastro Su quello che ho detto prima Ovvero che il primo tempo Fondamentalmente per 25 minuti È stato soltanto per oggi in campo Tu dovevi vincere Perché guardando i risultati Il Genoa Che perde in casa Con Cittadella Il Modena Che vince Contro la Spalla E tu la Spalla Ci hai sopra un punto Il Venezia Ieri che ha vinto Diciamo che il campionato Non ti aspetta E già L'immacolata Con Brescia È un test importante Ora stavo guardando Prima di registrare Il video Benevento Palermo E erano sullo 0-0 Quindi Ti potrebbe anche Andar bene Però Ti viene da tirare Tutti i cristi Perché il semplice fatto Che tu Un palo Un gol divorato Una papara del portiere Che non è approfittata Cioè Sono tante occasioni Proprio nichide Chiare Che tu dovevi segnare Però È stato 60 minuti Cioè Florenzi è stato 60 minuti Spento Ritorniamo sempre al solito discorso Questa squadra È Florenzi dipendente Sì Ma deve avere delle alternative Perché è impensabile Che senza Florenzi Questa squadra Non scenda in campo Cioè Se Florenzi ha Un primo tempo Come quello di oggi O i primi 60 minuti Come quelli di oggi E stare in cazzo Dagli ultimi 30 Caricandosi la scuola Sulle spalle Prendendo palla Che ne so A 20 metri Dalla porta E se lo fa da solo Cioè Vabbè Sembra arrivati a questo livello È una partita questa Che se tu Vuoi lottare per la salvezza O vuoi salvarti Dovevi vincere assolutamente Per il semplice fatto che Era troppo importante Giocavi in casa E ora Hai redato vigore Anche tu Con due risultati Poi Utili Consecutivi E una squadra Che era spacciata E ora Viene il bello Perché ora Bisognerà vedere Come Alcuni giocatori E come Metabolizzeranno Questa partita Cioè Venturi Secondo me Io Umanamente Gli sto vicino Perché Tutti quanti Sugli spalti Hanno detto Quel gol lo facevo pure io Quel gol lo facevo pure io Ma Il lato psicologico Che ti lascia una cosa del genere Secondo me È clamoroso Perché Credo A mani basse L'occasione più clamorosa Della sua carriera Essere Avresti acquisito Addirittura gradi Probabilmente Sulla fascia Ma Anche se Corrispoli Probabilmente Sarebbe Rimasto poi Nelle seconde linee Ecco Non avevamo alibi Come diceva Come ha detto ieri In conferenza Mister Viali Che non l'ho ascoltato In conferenza Post partita Però nel pre Diceva che non avevamo alibi E Questo 0-0 Che braglia Dice sempre Muove le acque Ok Ma Giocare gli ultimi 30 minuti Va bene Non chiedo di giocare 90 Ma fare Nemmeno al contrario Cioè giocare Un tempo Con questa mentalità Spingere 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 Creare 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 E addirittura Chiudere la partita Perché fondamentalmente Se Coi secco i ma Non si vince Lo so Quel tiro Venturi Avesse Indirizzato il pallone In poi red La Rivei Avesse concretizzato Quell'occasione Sull'errore di Gori Di Gori Giusto Il palo Di Galò Il pallone Fosse andato dentro Il problema Che è coi secco i ma Ripetiamo Non si va avanti Però Questa partita È molto Figlia di sé Di mano È un what if Cioè è uno dei what if Più clamorosi Credo della storia Lecce del Cosenza Parlavamo con un ragazzo Oggi allo stadio Che il Cosenza Credo che sia Il primo 0-0 In casa Probabilmente Ora vada a memoria Non ho controllato Dai tempi di Del filotto Di pareggi Di Di occhiuzzi Durante la pandemia Credo Perché uno Me lo ricordo Se non erro Che è con l'entella Forse sto dicendo E cavolato Però in quel filotto Di pareggio Probabilmente Uno in casa Uno 0-0 Sarà uscito Vabbè Ci siamo perditi E ora Alziamo la testa Perché bisognerà ripartire Cioè giovedì C'è un'altra partita Importante L'Immacolata E credo che Oggi ci saranno stati 4.000 persone Credo che Quanto meno A 5.000 5.000 si arriverà Ipotizzo 5.000 Di macolato Il giorno di festa Le famiglie Probabilmente Ritorneranno Negli stati Magari O farà qualche prezzo Abbassere i prezzi Non lo so Però il Brescia Anche oggi ha perso Quindi Due squadre Che sono abbastanza Sfiduciate Da questo punto di vista E nulla ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Un like di supporto L'iscrizione Se non l'aveste ancora fatto E nulla Ci aggiorniamo E ripeto Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Ciao a tutti Ciao a tutti